CACO BELLO Vedi vieni Sicuro di farlo? Oh Come si organizza? Come si organizza? Eh, che io facevo da qua, poi cambiamo per andare tutto dritto Io sono nella terza Sì Oh, sorry Lì Guarda, vieni qua Ma prima tu Posso dovessi stare una davanti a me? Sì Come? Fede, se ti spiega prima il tuo Però che dovresti far partire da qui Per Passo, passo, passo Ma se no io vado qua allora E tu stai qua Esatto Terza sezione Io sto qua, lui sta qua Ok E poi arrivo qui Sì, che io vado di qua E lì fai dive roll? Sì E il prossimo Posso dire, muovere che io vado qua di subito Dove prendo questo? Sì, arrivo Sì, sì Io Bisogna vedere perché Io devo stare dietro voi Però come fa a riprendere il tuo per bene? Oggi si piazza il telefono O vado a svegliare il primo io Poi vado a secondo lui Non lo so Qua No E in un ufficio E mi come andiamo come andiamo come andiamo a a a a a a a no 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 Ehi, dove vai? Ehi Madonna di... Oh, non va bene Oh, non va bene dai sbaglio passi non me ne guarda piuuu just you and meiii we are the one minchia ruuuu 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 noi stiamo pulendo l'atterraggio no? di questa roba ora vo su e lo faccio allora da qui stacco laggi dove è Matteo ed è tanta roba e ora no 11 sono di 12 bene dura l'incorso è solo questa vedi da la corri ingroppa a Matteo ho il cuore a tre ho il cuore a tre l'ultimo l'ultimo dai Matteo dai Matteo dai Matteo ok 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 devi correre cazzo 3 2 1 dai 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 hai hai wasi no non voglio non voglio no aspetta sbaglio però posso andare a casa io voglio ma io vai a scanio dove vai il non è è non 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 Sì Ciao